Ora è ufficiale, il Ministero dell'Istruzione ha sbloccato 82 milioni di euro per le scuole siciliane che permetteranno a 175 progetti nell'isola di essere attuati. Al comune di Capodorlando arriveranno 798.435 euro per la scuola di Contra da Furriolo e 751.248 per la scuola di Santa Lucia. Finanziamenti che fanno salire ad oltre 6 milioni quelli giunti in città per cambiare completamente il volto agli edifici che ospitano le classi dei due istituti comprensivi. Un'opera di progettazione e di programmazione che ha visto in prima linea l'ufficio tecnico e l'assessore vicesindaco Aldo Leggio. Tra un anno e mezzo le scuole di Capodorlando saranno tutte all'avanguardia dal punto di vista del risparmio energetico e della sicurezza. Avvina il cantiere per il rifacimento della facciata e del consolidamento della struttura è a buon punto, mentre già dalla prossima settimana, giusto il tempo di concludere le lezioni, si potrà cominciare nel plesso di forno. Ma l'appuntamento più importante è quello che si sta giocando a Messina, presso gli uffici dell'Urega. Il 10 giugno, infatti, inizia la prima fase dell'assegnazione dell'appalto per la realizzazione di interventi per 2.700.000 euro per il risparmio energetico di tutte le scuole cittadine. I soldi dell'Unione Europea sono vincolati alla realizzazione degli interventi entro fine anno ed effettivamente sembrava complicato rispettare le scadenze. In compenso, però, l'apertura delle buste da parte dell'Urega ha riservato buone notizie. Infatti, le ditte ammesse sono soltanto due ed entrambe hanno proposto tra le modifiche migliorative al bando di gara un mese di anticipo nella consegna dei lavori rispetto ai tempi previsti.